In seguito ad una grave malattia, martedì sera è morto Bruno Volchi, soprannominato Maciste, ex calciatore ed allenatore di calcio. Nato a Milano nel 1940, da tanti anni abitava a Pieve Agnevole. Da giocatore ha giocato a Milano con l'Inter sei stagioni, uno scudetto al Verona, all'Atalanta, al Torino. Ha indossato anche la maglia della Nazionale in quattro partite. Nella sua lunga carriera da allenatore si è seduto anche sulla panchina della Pistoiese nella stagione 72-73 in Serie D, per poi tornarci nella stagione 76-77, vincendo il campionato di Serie C e portando, dopo 26 anni, gli arancioni nella Serie Cadetta. Da ricordare la tripletta di promozioni con il Bari dalla sci alla A del presidente Matarrese. Nel 61, tra l'altro, Bruno Volchi, allora capitano dell'Inter, è stato il primo giocatore ad apparire sulle figurine della Panini. Uno dei due figli, Andrea Detto Bobo, è attualmente massaggiatore degli Herons, squadra di basket che milita nel campionato di Serie B. Lo ricordo come una persona per bene, ha sottolineato Luca Baroncini, sindaco di Montecatini, un grande campione anche fuori dal campo, un personaggio importante anche per la città termale e per la Val di Nievole. Alla famiglia le più sincere condoglianze della redazione di TVL tutta. Grazie.